buongiorno buona domenica eccoci qua oggi in casa amoroso si mangia il coniglio questa spezia vi fa intendere subito come lo cuciniamo e voilà allora mentre ci tagliamo i pomodori facciamo soffriggere i pezzi di coniglio dovete sapere che c'è gente che la ruba questa spezia ci sono svariate scuole di pensiero chi lo fa col pomodori del pennolo per fatto all'ischitana ci vogliono una decina di pomodori per coniglio ma quando avete il piacere di trovare queste qua queste che mio cugino dice che si chiamano le cubanelle e per questo tartellino qua paesano è un'altra storia signori l'interiore non fidatevi di chi cucina il coniglio senza l'interiore signori si va avanti eccoci qua profumo meraviglioso sfumature colori bellezza lo so lo so sono immagini ripetitive ma dovete cogliere le sfumature migliori quasi ci siamo eh a questo punto una persona normale si ferma il pomodoro si è appassito al punto giusto ma noi no noi dobbiamo tirare tutto da questo pomodoro tutto non deve rimanere in mente che mi piace la musica è perfetta è perfetta che ti state perdendo con il disco che è palato la lingua il pomodoro si sente appena appena un po' di glutine ma un poco però eh buongiorno il coniglio è pronto madonna mia mia cucina lo sapevo io vivo la consapevolezza che il mio mentore maestro non dirà mai hai fatto un grande coniglio vivo della consapevolezza che il mio mentore troverà sempre un difetto al mio coniglio ma ho anche la certezza che il mio coniglio è più buono del suo buona domenica buona domenica buona domenica buona domenica